Lei è un grandissimo artista, un grandissimo comico e parlando di se stesso ha detto ho avuto la sfortuna di avere un bel talento e non imparavo niente questo mi dava atito a fare follie e me ne andavo sparivo ma insomma diciamo è stato un po' un alibi per lei essere così talentuoso avrebbe potuto fare di più Ho cominciato il libro il giovane Holden ecco, oh mi sono riconosciuto nelle prime pagine non so come va davanti però nelle prime pagine si sente lui insofferente, non gli piace niente, gli dà fastidio tutto Lei nasce a Taranto e poi si trasferisce in Calabria e cresce insomma diciamo con sua nonna e le faceva controllare se la gallina avesse fatto l'uovo in modo un po' empirico doveva mettere il dito nel culo alla gallina così per parlare per metafore io guardavo e dicevano non c'è l'uovo devi guardare dentro devi guardare dentro dove? do culo dico no nonna poi alla fine è diventata un'abitudine non un piacere quello mai poi a 5 anni invece si trasferisce a Milano e diciamo che la sua infanzia non è stata poi così semplice lei ha detto la facilità allo scontro mi arriva da un'infanzia difficile mamma era sarta, papà non lavorava e non si vedeva mai meglio perché quando arrivava mi picchiava di brutto il classico padre padrone era un disadattato di fronte al bidello indiviso pianto per ore facevo fatica a scrivere e a leggere qual è adesso seriamente il ricordo che più la dolora della sua infanzia? un pomeriggio d'estate venne da regge un amico di mio padre tornai a casa e mio padre e suo amico stavano ascoltando i discorsi di Mussolini su un giradischi e mi disse ma mio padre è proprio un fascistone di merda e lì comincia un conflitto un po' più duro cioè le sberre diventarono quasi pugni ecco me, mia madre io cercavo di difendermi ma era peggio se non che questa cosa è durata finché poi non sono cresciuto e quando sono cresciuto l'ho appeso al muro comunque a un certo punto suo padre se ne va prende la sua strada con un'altra compagna poi quando lei invece comincia a diventare famoso, importante e a guadagnare lei io? sì, lui si presenta, suo padre si presenta in camerino e le chiede dei soldi, lei glieli dà in quel momento a lei faceva più tenerezza o rabbia suo padre? faceva pena faceva pena perché se l'ha messo con una donna che faceva l'antrenosi in un locale che si chiamava La Romantica ma arrivava con le orecchie basse proprio e mi parlava, sei bravo Nino, sei bravo che ridi, hai fatto ridere tutte ma poi ha dato 200 mila lire dico, cosa? Mi vuoi dare 200 mila lire? dico, va bene, sì, glielo date e per qualche volta e l'ultima volta che gli diedi 100-200 mila lire si mise a piangere e fu la prima volta che vedi mio padre piangere un fascista a piangere e lei pianse in quell'occasione? no